Come sarà la giornata? Come sarà strutturata? Allora, siamo qui con Don Gero. Un consiglio per coloro che stanno per partecipare a questo Giovani in Festa. Come prepararsi e come vivere questo giorno importante per la nostra diocesi? Allora, io ho consigliato fin dall'inizio di arrivare al Giovani in Festa preparati, perché il Giovani in Festa per i nostri gruppi parrocchiali deve essere la fine di un cammino che hanno fatto durante l'anno. Ma sicuramente la preparazione deve essere prima di tutto motivazionale. Io arrivo al Giovani in Festa perché ho voglia di fare festa, ho voglia di stare insieme agli altri, ho voglia di condividere l'esperienza del Paese che mi ospita. Allora sicuramente dobbiamo essere motivati e dall'altro lato dobbiamo essere pronti ad accogliere quello che il Signore vorrà donarci in quel giorno. Perché in ogni Giovani in Festa il Signore ti regala qualcosa. E dobbiamo arrivare predisposti, col cuore aperto, ad accogliere quello che ci verrà donato. Quindi ribadiamo l'appuntamento per il giorno 4 in modo tale che cerchiamo di coinvolgere le persone possibili. Questa giornata è importante per la nostra diocesi. Noi abbiamo già girato un po' la diocesi e ci sono arrivate già delle indicazioni di gruppi che arriveranno. Ma sicuramente l'invito è rivolto a tutti quelli che vogliono vivere un'esperienza particolare. Il 4 di agosto già dalle 9 del mattino a Santo Stefano Quisquina. Allora come la comunità di Santo Stefano si sta preparando questo Giovani in Festa? La comunità di Santo Stefano si sta preparando come nostra consuetudine molto bene. Perché Santo Stefano, come sapete, sono persone assolutamente, associazioni, gruppi di persone e singole persone che hanno condiviso insieme all'amministrazione comunale, insieme alla Curia, questa nostra indicazione, questa nostra candidatura del Giovani in Festa. Quindi si sta preparando con grande entusiasmo. Io approfitto anche di Quisquina Channel per ringraziare tutti coloro che si sono prodigati, si stanno prodigando in queste ore per l'organizzazione miticolosa del Giovani in Festa. Sapete che è una macchina organizzativa particolare. Come amministrazione comunale abbiamo già predisposto il tutto. Sicuramente come Curia Vescovile e come mondo del volontariato si sta predisponendo il tutto per arrivare il 4 agosto a una giornata che non ci dia preoccupazioni particolari. Sapete che il 4 agosto è una giornata particolare anche probabilmente da un punto di vista meteorologico. Ma sappiamo che Santo Stefano, la nostra comunità, ha le carte e regole da un punto di vista anche naturalistico, da un punto di vista logistico per ospitare i tantissimi giovani che ci onoreranno della loro presenza. L'invito al Sindaco a ribadire l'invito per questa giornata. Assolutamente, l'invito di essere presenti il 4 agosto a Santo Stefano in Quisquina per questa edizione anomale del Giovani in Festa che quest'anno non si celebrerà il primo maggio. Un evento che per situazioni particolari si svolgerà il 4 agosto di non farsi scoraggiare dalle condizioni climatiche perché noi abbiamo una bellissima villa comunale abbiamo l'eremo di Santa Rosalia alla Quisquina abbiamo quelle condizioni naturalistiche per ospitare tutti e naturalmente per non soffrire nemmeno il caldo. Abbiamo quelle condizioni anche da un punto di vista ambientale e logistico per fare una bella figura e sono convinto che sarà una giornata indimenticabile di festa per la nostra comunità e per l'intero territorio agrigentino.